Sì, è iniziato da ieri, è iniziato la stagione, siamo venuti qua in ritiro, dobbiamo fare un buon ritiro perché quando si fa un buon ritiro si fa un buon campionato. Speriamo che quando iniziano le partite siamo pronti tutti. Primi due allenamenti con mister Tedino, che impressione ti ha fatto? Siamo poco tempo con lui, però quello che ho visto e quello che mi piace è che lui vuole giocare calcio, che il pallone va veloce e si gioca un calcio offensivo. Io ho procuratore, lavoro con Mario Giuffredi, lui è mio procuratore. L'obiettivo per squadra è tornare in Palermo in Serie A, tornare a giocare bel calcio, il mio obiettivo è fare più partiti possibili e giocare bene. Non dobbiamo sbagliare tante cose dell'anno scorso, però dobbiamo cercare di vincere i più partiti possibili in casa, dobbiamo stare più concentrati e quando l'avversario ha calcio piazzato perché l'anno scorso abbiamo preso tanti gol. Vuoi mandare un messaggio ai tifosi del Palermo? Venite al stadio e state sempre vicino a noi, abbiamo bisogno di voi. Venite al stadio e state sempre vicino a noi, abbiamo bisogno di voi.